E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio della Warcraft 2 Oggi siamo con il buon Gabuso che ci darà una mano a fare un paio di cose Premesso, doveva uscire un video molto stupido Ma uscirà la prossima settimana Detto questo... Ciao, ci sono io che sono stupido uguale Sì, assolutamente, cioè non è che questo sia meglio o peggio di quell'altro Semplicemente abbiamo avuto dei problemi a passarci i file, è un disastro Io seguo te perché non so nulla Allora, no, ti dico... Esatto No, allora, dovremo usufruire di una delle torri Quindi apriremo una torre nuova Per lo stoccaggio di tutte le questioni E... Allora, un attimo che devo riorganizzare le idee Ragazzi, vi aspettiamo al Romagna Comics Oggi che è sabato, dovrebbe uscire oggi il video Che è sabato Saremo a Romagna Comics, venite numerosi All'alma già di Ravenna Trovate tutto su Facebook Ok, basta, andiamo a fare le farm Che mi sono già spragato i maroni Allora, partiamo con le cose semplici Dobbiamo aprire qua Adesso, lei ha visto le vie farm? Eh, no, ho visto solo quella principale Con tutte le spade belle, con piccate belle Questo l'hai visto? No Senti i polli Sì Ok Allora, questa colonna di cesta è piena Questa... ce n'è un po' E queste sono tutte omelette Esatto Devo riempirle tutte C'è un sistema di distribuzione su tutte le ceste Ok, a cosa servono queste? Niente, volevo la farm di polli più grossa della storia E ho fatto Ok Basta, finita la spiegazione Finita la magia È questa È tipo qua Agiaio, non darmi le botte Questo mi mela Guardi, ti avrà martellato in testa Sì, sento che mi mela a me Mi cagliotte, ok Intanto che io metto a posto il pavimento Con la 1D Te ce l'hai lavanda? Eh, lavanda è rimasta a casa Ho solo Cosmo Allora Citazioni importanti, mi dico Allora, mi dovresti andare a recuperare Nella... Due ceste vuote di diamante Due, tre ceste vuote di diamante E poi farmi degli hopper Ma veramente gli hopper si fanno con l'Iron Gear? Ma da quando? Eh, da quando giochiamo dato, amico mio Ma... Purtroppo Sono rimasto di merda Eh, benvenuto nel club Benvenuto nel club Non ti preoccupare Ok, va bene Io ti sento tranquillo Vabbè Ok Cosa mica ci metto come pavimento? Lei che è builder Cosa ci metto come pavimento? Eh, non lo so Diciamo che... Ho un'idea stupida Un po' particolare la tua qua Ah, ma puoi metterci dentro Ci puoi mettere quello che vuoi Poi copro Allora io direi un qualcosa di chiaro Tipo bianco, grigino Per staccare Direi allora No, ci mettiamo Questi cosi qua che sono strani Quelli della Eder Ci facciamo i mattoni a Eder Questi Ah, sì? Li guardi Sono mattoni biancastri Sono davanti a le... Capo? Eh, non lo so Li ho presi Sono imploso Ah, non potevi Minecraft rani Mi ha spinto Problemi in crash Ok Bene Rientriamo Ho notato Ho notato Non si preoccupi Non serviva che me lo dicesse Minecraft L'ho notato Va bene Andiamo Ehm Speriamo che me le piazzi tutte E che la banda work Perché altrimenti... Ecco Ecco perché odio la microblocks Perché per mettere sti rossi Allora Via questo Prendi la bandissima Non va Lo sapevo One eternity later Va bene questa cosa è fatta, via via le cose che non mi servono più E dentro quelle che ci servono, quelle che ci servono sono blocchi Quanto brutta la vogliamo fare, la vogliamo fare brutta, vabbè vado a craftare le cose Non so tu, falla brutta brutta Io la faccio brutta 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 però Se a te piacciono le cose brutte 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 No ma guarda a livello stilistico io sono un cane Ora, con molta calma e sangue freddo, utilizzando i blocchi brutti che prima non abbiamo utilizzato Mi devi dare la cesta, le cesta e gli hopper Grazie per le ceste, che lui non può piastarle purino Ok, la cesta le ha raccolte e gli hopper ci sta mettendo un po' Va bene Allora, dammi questo, dammi questo Ok, allora cominciamo a pensare Non qua, l'altra parte Ok Abbiamo problemi Lasciate fare, siamo stanchi e tristi Allora, compattezza Vogliamo compattarli noi Vogliamo compattarli Quindi dove la voglio fare? Mi piacerebbe fare tipo una scaletta qui che faccia tipo una scaletta e vada su Ah, alla faccia del compadre Sì, no Ah, ho dimenticato Mi crafti un blocco, no? Non l'ho fatto Quante cazzo di crafting table c'hai? Scusami Con quella piazzata sei Cosa? Perché? Buongiorno, facciamo una casa Facciamo una casa solo di crafting table Una casa di crafting table Ma anche Perché qua ci sono delle crafting table stranissime Facciamo la casa di Dan con la crafting table Così lì facciamo finalmente una vera casa Mi ricordo più o meno Ok, perfetto Come era fatta Però Allora io ti guardo Ha grandissime Però ha grandissime linee, me la ricordo Perché io mi ricordo che dovevi metterla tipo così Poi Qui ci sono i tripwire Perché questa, vi ricordiamo, che è 1-12 Qui ci sono i tripwire hook Poi che bloccava c'era la Block note forse, no? No, c'era l'iron La block note era dietro C'era l'iron trapdoor qui Il block note era proprio qui tipo Qui in mezzo c'era l'acqua Qui ci devi mettere qualcosa che eviti che l'acqua vada a farsi fottere Sto facendo casino Sto da Ho esagerato Piano Sì Ok Però non è questa l'altezza Quindi questa è l'altezza E io Dopo pescando Guardando in bocca L'iron trapdoor Con i tripwire hook calato E il pezzo di cordame In mezzo nei denti E un pezzetto di redstone Che mi porti il segnale Dovrei poterlo fare Ah no Sono scemo Qui sotto ci vuole l'hopper Porca miseria Sto facendo un bordello Per fare una cosa stupidissima Mi si sposti Perché c'era Ah scusi Si sposti Comunque Mi parcheggio Una delle sue Sboranta Mirat Ah sì Ok Ok Ora Ok Ci servono Le iron nugget Per fare una cosa Molto Particolare Perché se scrivo Quello Non so scrivere Fish Vabbè Se scrive Fish in road Esiste anche quella Di diamante Guarda Dato che io non Posseggo Una fishing road Con una discreta Ignoranza Ve la faccio Facciamo quella In diamante Facciamo quella In diamante Ma per fare la fishing road Qui La ricetta è leggermente Diversa Serve una stringa Il bacchettino Due diamanti E un iron fish hook Che è una strozzata Da fare con Quattro nugget Di ferro Giusto il fastidio Di sprecare Mezzo lingotto Quindi Quindi fai la fishing road Ora Altra cosa Importantissima No non è R E Altra cosa Importantissima È andare a Metterci sopra Il lac of the sea Perfetto Costo 6 Abbiamo la fishing road Di diamante Con lac of the sea Adesso andiamo a vedere Se vuole provarla Lei signor gabbo Sììì Bene Quindi io devo Cliccare il bloc notice Giusto Devi cliccare No Devi cliccare Praticamente Sul bordo Della Del batecco Del batecco Cioè la stringa No Devi battere Sul bordo Dell'iron Trapdoor E in modo che Aspetti Noto Faccia lei No ma Faccia lei Io mi accontento C'è un altro problema Faccia lei No C'è C'è il problema Di fondo Senza redstone È dura Che funzioni Ah ecco perché Giustamente Giustamente Non ero capace Di farla funzionare Ah no C'è un altro problema Non da poco Ed è che Che qua sotto Ci deve essere Qualcosa 2000 years Later Ok si Dovrebbe essere Giusto così Ok Io ti guardo Adesso farma Se il punto è il punto giusto Lui dovrebbe farmare Benissimo Io guardo E Non farò altro Perché non so Signor pesce Signor pesce Signor pesce Signor pesce Eccolo La farm funziona Il server lag Quindi non va Bene È una farm inutile Ma noi Noi siamo a posto Così Noi siamo contenti Con poco Ci andiamo a vedere Cosa siamo riusciti A recuperare Tre pesci E un arco Con panciuro Direi che è un bottino Di merda E Terminiamo il video Termino il video Cercando di catturare Cercando di catturarti Ma te li stai muovendo Sì Andiamo Andiamo amico Andiamo Il bello è che vedo Un filo piantato Nel tuo cervello E che io lo vedo Ottimo Ok Beh ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un like Andate a vedere Il canale Del buon gab Tanto Non faccio F5 Io Ah Sorry Non lo so Non faccio Uno fa F5 Uno fa F5 Uno fa quello che Va bene Ciao Non farmi rapire Non farmi rapire Va bene Ci vediamo Al prossimo episodio Ragazzi Andate a gab Ciao E ci vediamo a Romagna Ciao 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 Grazie a tutti